Come famiglie dei ragazzi della Catechesi, diteci un motivo che rende bello questo cammino. Come genitori siamo consapevoli che l'educazione di un figlio dipende il 50% dai nuovi genitori e per il resto dagli ambienti che frequenta, le persone che frequenta. E qui all'oratorio di Giuseppino del Murialdo la Catechesi non cura soltanto l'aspetto religioso ma ha una forte componente sociale con tantissime attività. L'ambiente è un ambiente fresco, un ambiente controllato, ci sono i veterani, ci sono i giovani, quindi siamo contenti che nostra figlia svolga delle attività qui all'interno della parrocchia in un ambiente sano e controllato. Questo ci dà anche tranquillità. Le nostre esperienze qui all'interno della parrocchia sono quelle di noi all'età di nostra figlia, perciò siamo contenti, felici di aver intrapreso questo percorso. I nostri catechisti sono giovani, con le idee giovani, con l'energia dei giovani che trasmettono, coinvolgono loro, coinvolgono noi. Questo è un percorso, questo è il percorso che volevamo, sia per lei che per noi. Allora, qui con noi due giovani mamme che sono cresciute in oratorio, che effetto vi fa vedere i vostri figli che ora partecipano alle attività dove eravate impegnate voi? Allora, sicuramente una grande emozione, perché comunque qui io ci ho dato il cuore, ci sono veramente cresciuta e grazie a degli educatori fantastici mi hanno inculcato grandi valori, veramente una seconda famiglia. Quindi mia figlia inizierei questo percorso, per me è bellissimo, mi auguro che anche lei come me abbia un bel percorso lungo, è fatto anche di amici, perché io ho amici ventennali che ho conosciuto praticamente qui, quindi un bel percorso di vita che insomma le auguro. La promozione è grande, poi è un ritorno, perché magari si ci allontana e poi si ritorna qui, dove io ho conosciuto gli amici, ho conosciuto gli amori, ho conosciuto mio marito, sposati, tutto qui. Cos'è cambiato, se è cambiato qualcosa della vostra partecipazione alle attività in oratorio da genitori? Allora, personalmente ben poco, nel senso ora è più bello perché faccio con mia figlia, quindi c'è quella cosa che se prima la faccio tra virgolette sola, adesso c'è quella cosa in più che è ovviamente più bella. La vedi in un'altra ottica, prima ci giocavi e animavi gli altri e adesso ci giochi con loro, li vedi crescere, è più consapevole tutto e si spera di continuare questa grande famiglia. La vedi in un'altra ottica, è più consapevole tutto e si spera di continuare questa grande famiglia.